Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di ChrisMagic22 Allora, a parte che ho cambiato la mia intro, ma vabbè Allora, oggi siamo qui in un nuovissimo video A giocare a StumbleGuys Allora, praticamente a fare una challenge Ovvero di non toccare il colore Ovvero a non toccare i seguenti colori Allora, prima di iniziare a fare la challenge Ho trovato delle figurine, sembra di Brawl Cioè, Edgar doppione, Tara doppione, Leon doppione Che sarebbero questi qui doppioni Pure anche 8bit E poi poi per ciò che ho completato la mia raccolta Dopo penseremo a tutto questo Ma ora andiamo a giocare Allora ragazzi, eccoci qui Allora, comunque ho notato moltissime skin Ovvero, queste qua Vabbè, è inutile che ve le dico Perché ne sono tantissime Vabbè, tra le leggendarie un sacco Eppure tra le speciali Perché mi ricordo che in estate ce ne erano 4 Andiamo sui premi gra Oddio, ruota della fortuna Raga Ma è buono, proviamo Che cazzo No Che cos'è? Oddio, quante gemme Quanti getto No, era impossibile se me la dava Dai Dai Oh, possiamo ancora fare i giri gratis Raga, comunque io Facciamo un sacco Cioè, allora Possiamo Fare questi giri per fortuna gratis Guardando le seguenti pubblicità Comunque Voglio solo informarvi Che io faccio video Ogni due giorni Ovvero, un giorno sì E un giorno no Come Il lunedì Cioè, ad esempio, pubblicato Martedì Mercoledì no E giovedì si pubblica Allora Ecco qui Andiamo, 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 andiamo Oh Oh Leggendo Tre doppioni No Tre gettoni neanche Convertiamo Oh, mi manca l'ultimo Ora Dai 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 Ma che no Ma che presa per il culo Ma che cos'è Ma dai Ma che presa per il culo Eh, scusate Allora Che potrei fare Una volta scioppando Potrei Ma perché mi da sempre attendere Vabbè, faccio una Una Scemenza No, vabbè Facciamole partire prima Allora Il nostro obiettivo È quello Di Non Toccare I seguenti colori Ad esempio Non dobbiamo Toccare Il colore Nero Non penso che ci siano mappe Con il colore nero Ma dobbiamo dire Tutti i colori Che ci sono Quindi Allora Ingranitiamo un po' Come fosse il green screen Allora Vediamo cosa ci esce Oh, hanno aggiunto pure nuove mappe What? No No Dai Ma si è baggato Perché fa così Che prima scorre Lungo E poi si bagga Ma io l'odio Sto gioco È tutto rotto Stumble Guys È rotto Perciò non ci gioco mai È un gioco rotto Stumble Guys È un gioco Rotto No Nessuno dei miei amici online Non voglio Le pubblicità Allora Non devo toccare sempre Il colore nero Scusate Per Tutto Per tutta questa confusione Che sta accadendo Ok Ora Dobbiamo vedere Che mappa esce Perché se giuro Se Non carichi Giuro che butto il telefono all'aria Oh E dai Si bagga Ma perché Sei io nora Ma perché si bagga Dai Non lo devo riuscire Ma è la seconda volta Posso capire che è una volta Ok Ma la seconda Poi mi dice pure L'errore di connessione Che poi la connessione Uno Ho i dati mobili Secondo Oppure Ah ma lascia stare Eppure il router wifi E mi Dimmi di mamma Vediamo Ha pure il coraggio Dimmi L'errore di connessione Perché Io non lo so Vabbè Io qua Lo sai che faccio Scioppiamo Scioppiamo le gemme In modo che Io posso Posso fare il giro E trovare qualche doppione Per fare Per fare Il giro Epico Vediamo Ah vero Ma io pure Sono cretino Oggi Bisogna sempre Prendere Il 30 gemme Mamma mia Bisogna avere Allora Se si carica Questo gioco Forse Ce la faremo 6 minuti Sprecati per cosa Perché Il telefono Non andava Ma vabbè Cioè ma voi state scherzando Ma voi state scherzando Cioè Un'ora Per il caricamento Solo per trovare i giocatori Secondo Ma si bugga un'altra volta No io lo sapevo Che si bugga No io no Ora no Ma come Ma io voglio vedere La connessione Ma no Ma giusto per Ma giusto per vedere Ma La teniamo La 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 Cosa qua Bah Boh Ne abbiamo il bluetooth Forse Non lo so Bah Si Si è verificata La disconnessione Del gioco Controlla La tua rete Internet Ma voi state fuori Raga Ma Ma loro Stanno Ma state fuori Proprio con i Router italiani Mi ho metto Il router Il router Turco Tra poco Caso proprio E li ha No vabbè Ma perché Ma perché Non si No io no Io non ce la faccio Ma io non ce la faccio Ma fate seri Proviamo a mettere i dati mobili Io che ne so Bah Oh E fammi tra Proviamo a mettere i dati Oh Che telefono Allora Proviamo a mettere Solo la connessione Wifi La connessione Dati Bah Chiudiamo anche La cartella Non lo so Chiudiamo Ok Ora Rieniamo sul gioco Rimettiamo Stumbleguys Comunque Per Brawl Stars Raga Per Brawl Stars Avviso Sono riuscito A risolvere Ringraziamo L'assistenza Che Ci ha Ci ha assistito A questo danno Che ho fatto Per il video Noi Ringraziamo Che mi hanno recuperato L'account Con tutte le Password Ora Mo se non me lo dai Giuro che io Ti sbatto Per terra Reapro Brawl Oh ma giuro Raga Caricamento E tre ore Di caricamento E vabbè Vediamo Mo No si bugga Sempre Vediamo No si bugga Perché sei bloccato Fermo Mannaggia 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 Ma io lo pubblico Sto video Mannaggia Cioè ma fate Ma voi fate Davvero Io ti provo L'ultima Raga Ma io Non ci credo Cioè Quante volte Vi ho fatto vedere E sta schermato In dieci minuti Poi Mi dicono Ma perché Non fai Stumbleguys Sul canale Brawl Stars È Un gioco ormai Passato di moda Fai Video Boomer Cioè allora Io vi presento Stumbleguys Ecco qui Con la skin speciale Il mio nome Guardate Ora clicchiamo Su gioca Voglio far solo capire A quelli che mi dicono Che Brawl Stars È Un gioco No aspetta Ma io metto Altri ruders Ma che me ne fotte Allora Andiamo su No Lingua No Magari Ah Turchia Ah Ecco L'hanno messo L'hanno messo Terra Ecco Ah Perché i miei amici Mi avevano detto Che avevano messo Il nuovo server Della Turchia Ed ecco qui Vediamo se i server Della Turchia Sono buoni O meno Cioè O il telefono O Io non ci credo Io 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 Credo Ma io non ci credo Ma come Ma come Se io Io ora Ci riprovo Raga Io non lo so Raga Riproviamoci Ma non mi va Ma lo devo Disinstallare Sto gioco Ok Ecco qui No Perché sto video C'è proprio Che gioco Rotto Ma che giochi Rotti Poi il mio telefono Che sto registrando Ancora peggio Vediamo 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 come va Ok Finalmente Ce l'ha dato Bene Proviamo Non lo so Che peccato Che però Che peccato Vorrei scioppare Vorrei scioppare Però C'è niente Il 19 Poi aspetto a lui 49 minuti Per la ruota Ma se ne andasse A quel paese Più Secondo me Non va Questo è l'ultimo Tentativo Ultimo Dai Dai Non so Perché si blocca Voglio vedere cosa mi da Vabbè Vabbè Prova a creare un gruppo Penso che Che è la stessa cosa Prova a creare un gruppo Un qualcosa Non lo so Non lo so Ma il gruppo Ci vuole Due persone Prova a vedere qualche cosa Non lo so Vediamo Allora Partita personalizzata Ragazzi Occhi Questa Paint splash Abbiamo disattivato E quella che andremo A scegliere Paint splash Allora Visto che qui il colore Negro Non c'è Dobbiamo Vediamo un attimo Le caratteristiche Della mappa Per vedere Che colori ci sono Da poter fare La challenge Perché se tipo Non c'è il nero Non ha senso Giocare La mappa Ok Vediamo Vediamo se si Bugga Un'altra volta Perché io Lo butto Ma poi hanno Aggiunto Tipo mappe Uguali Solo che Sono notturne Tipo Odney Drop E nero Ma no Ok Abbiamo La nostra Partita Personalizzata Bene Allora Mettiamo Tutto qui Bene Allora Scusate Un attimo Allora Non riesco Allora Perché non ho 3000 mani Allora Non dobbiamo Toccare Il colore Ma questa Sarà Difficile Raga Non toccare Il colore Giallo Allora Ok Raga No Fermi Allora Io ho capito Come andare Fermi 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 Che se ci becca Boom Facciamo così Poi facciamola Anche la stessa Cosa Di qua Cavolo Sto cadendo No Sì Sì Poi Sì Ce la sto facendo Aia Qua È tutta arancione È tutta arancione Quindi Non vale Allora Donna Allora Qua potrei fare Un attimo Una cosa Bene A parte Che io Poi sono Giallo Ma vabbè Lasciamo stare Io qua Proprio Dobbiamo Toccare Il giallo Oh Che Pro Player Ecco Non avevo Pensato Qui Eh Raga Come faccio No Oh Fermi 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 Allora Potrei fare Un saltino Un saltino Veloce Subito 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 Non lo devo Toccare Ok Era impossibile Era impossibile Ora Ci andiamo Andiamo A qualificare Bene Dieci minuti Di video No Quasi Quindici Minuti Di video Così sprecato Solo per Allora Ma no Ma è uscita La pubblicità Ma cosa Però Purtroppo Se devo Gioca Se gioco Nel gruppo Nel gruppo Da solo Non posso Avere Ricompense Per Giocare Vabbè Poi vi farò Uno short Se cerco Di fare Uno short Per voi Per Per queste carte In modo Che io Posso Portare Contenuto Il contenuto Del gioco Che ho mancato Nel video Dai Se si muove Se si muove Grazie Che è Questa è L'ultima Partita Giusto Perché Allora Vediamo Che mappa Esce Immagina Se esce Sta mappa Non ha Senso Un'altra Vo Ah Vero Giusto Ora Faccio Una sfida Impossibile Non Toccare Il colore Arancione Allora Farà Una cosa Impossibile Però Noi ci proviamo Tanto Questo è giallo Qua ce n'è Molto Di arancione Basta Non cadere Basta Non cadere Vabbè Qua è facile E qua Per niente Qua Per Niente Aia Allora Ho capito Potrei saltare E dai Ok Potrei andare Qui Poi Attenzione Che Possiamo Cadere No Vabbè Ma ci sono Un pro No 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 L'ho Toccato Cioè Io ho fatto Un salto Proprio così Vabbè Fate finta Che non avete visto Niente Ma giusto Perché Cioè Sono un problema Raga Dai Allora Questo è giallo Vabbè La rifacciamo La partita La rifacciamo Facciamo che ho due vite Perché non era Non era previsto Scusate però Raga Però È caduto Facciamo una regola Che se Cado Scioppo Allora Rendiamo Qui Oh no 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 Vabbè Proviamo Vabbè Vabbè Mo si blocca Non mi da niente Si blocca E non mi da niente Vuoi vedere Ma io lo sapevo Ma è inutile Ma è inutile Ma raga Allora Rientriamo Rientriamo Su Stumble Guys Niente Come Non ci fosse Bastato Ci da Di nuovo Ancora Questo Chiudiamo La sua cartella Rientriamo Che devo fare Più di questo Cioè Ditemelo Allora Facciamo l'ultima Partita Non ho intenzione Grazie Allora No No Fermi Allora Adesso Rimettiamo Paint Splash Splash Lo rimettiamo Vorrei fare Una Una pazzia Tipo Super slide Non toccare l'acqua Però Mi sembra troppo Impossibile Cioè Allora Cioè Molti ci sono riusciti Perché sono Pro player Propri assurdi Ma io non sono Uno Di quelli Che riesco A fare Cose Del genere Allora Allora Gioco Dai Muoviti Noi abbiamo Tutta la giornata Da perdere Aspettiamo 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 Almeno Dammela Ok Ora È un poco Impossibile Ma non Dovremmo Toccare Il colore Arancione Bene Siamo in partita Mimì Per un pelo Mi sono salvato Per un pelo Ok Ora Vado qui Tanto qua È giallo Tensione Che se mi colpisce Il pennello Oppure Allora Salto da pro Ora Tensione Quello che sto Per fare Qui dentro Allora 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 Io ora Provo Stare qui Andare da qui Come fanno Dei pro player Attenzione 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 Aspettiamo Il pennello Aspettiamo Il pennello Bomba Bomba Abbiamo fatto Abbiamo fatto Ok Ora aspettiamo Perché ho paura Vabbè Qua saltiamo Vabbè Qui Si può Qua facciamo Direttamente Così Per No Mannaggia Mannaggia La Bubba Allora Non so Non so In realtà Questo È Giallo O Arancione Ma Vi Devo Dire Che non Lo so Quindi Io faccio Finta Che Lo sia Vabbè Facciamo Un salto Da pro player Ora Andiamo Sulla Staccionata Vabbè E ci qualifichiamo Ok Allora Diciamo Che Diciamo Che Questo video Non è Molto Bello Perché Quasi 20 minuti Di Provare A fare Una partita Normale E 10 minuti Di 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 Gioco Allora Però Per questa Volta È Tutto È Da Chris Magic Un saluto E Al Prossimo Video Ciao